Oggi l'inaugurazione della mostra ai segni del paesaggio Lappia e Capua. Dottoressa, un'iniziativa molto bella che ha visto coinvolta tantissima gente. Intanto, qual è la particolarità di questa mostra? La particolarità di questa mostra posso dire un po' tutta. Il pezzo forte è sicuramente Staglia, la tomba di Staglia che è stata ricostruita, finalmente restituita alla comunità dopo 15 anni. Quindi è un'emozione, una commozione straordinaria poter attraversare in questa monumentale tomba, rivedere gli oggetti che sono stati ritrovati nello stesso posto, su quel tavolino, e ammirare l'affresco della tomba di Staglia che viene accolta direttamente da Dite, e da Ade, da Plutone, come lo vogliamo chiamare, il re e la divinità degli inferi. E poi un po' tutta, perché? Perché finalmente si mette, si esibisce la capua romana, la capua di marmo, la capua della monumentalità, delle grandi statue, dei grandi edifici, delle ricche domus, delle sculture, degli affreschi, e perché no, anche delle magnifiche sepolture. Questo progetto si espande nel territorio, quindi coinvolge anche altri musei del territorio, e non solo la pia stessa, la città che si può percorrere all'interno degli spazi museali, e perché no, quando si va fuori si può ricordare la costruzione dei monumenti antichi, attraversando Piazza San Francesco, cercando di ricordare dove era il Capitolium, dove era il teatro, dove era il criptoportico, e per fortuna rivisitare, visitare sempre l'Anfiteatro Campano, che era l'ambito di Appia. Ecco, perché venirla a vedere? Un invito? Perché venirla a vedere? Perché rappresenta finalmente un'occasione straordinaria di vedere oggetti che erano stati conservati nei musei per decenni, alcuni oltre di 50 anni, ci sono alcuni rinvenimenti che sono addirittura dell'Ottocento, e perché venirla a vedere? Perché questa mostra ricompone un progetto iniziato nel 1995, conclusosi con la decima sala, con il fondo Patturelli, quindi il percorso museale terminava prima della nascita straordinaria della Capua Romana, della Capua Imperiale, dell'Altera Roma, quella che noi e tutti i poeti, gli scrittori, gli storici romani ricordano come la seconda città più importante dell'Impero. Grazie.